Oggi è veramente una gran, bella giornata per la mia città. Il più bel complimento me l'ha fatto una cittadina stamattina che mi ha detto dove vuoi portare Trieste? Beh, sicuramente la vogliamo portare molto in alto. Poi ho ringraziato le aziende perché un anno fa non c'era nulla. Se cresce Trieste, cresce la Regione. Se cresce la Regione, cresce Trieste. Le navi da crociera. Ci sono tante cose positive in questo momento per cui sono veramente molto emozionato e ovviamente molto molto soddisfatto.